Gravidanze a rischio di trombi e di emboli che possono avvenire durante la gravidanza ma anche subito dopo la fine della gravidanza, subito dopo il parto, nelle settimane successive al parto. Per parlarne abbiamo con noi ospite in studio la dottoressa Elvira Grandone che è la responsabile dell'unità di emostasi e trombosi presso casa sollievo della sofferenza. Benvenuta fra noi dottoressa. Buonasera, grazie. Prima di entrare nel merito del nostro argomento e prima di proporvi una scheda introduttiva sul parto e sui rischi che in generale caratterizzano la gravidanza e il parto, vogliamo ricordare i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta effettuando le domande alla dottoressa Grandone che vorranno porre ovviamente in relazione al tema che stiamo trattando telefonando allo 0882 41 83 80. Ma come dicevamo ora entriamo nel vivo del nostro argomento e cerchiamo di capire quali sono in generale i problemi legati alla gravidanza e al parto. Lo facciamo con l'ausilio di una piccola scheda sintetica nella quale ha dato il suo contributo il dottor Natale Shannonamè, sempre alle dipendenze di casa sollievo della sofferenza e uno dei medici dell'ostetricia e ginecologia di casa sollievo. Sentiamo. La gravidanza è un evento naturale della durata circa di 40 settimane, il peso fetale alla nascita stimato in media 3,2-3,8 kg. Nonostante i cambiamenti che produce nell'organismo materno evolve nella gran parte dei casi in modo fisiologico. Tra l'altro adesso con l'ausilio della analgesia abbiamo anche eliminato la componente dolore nel travaglio di parto, per cui a tutte le pazienti che ne fanno richiesta forniamo la partanalgesia. Ma esistono situazioni anche che esulano dalla fisiologia, dalla normalità, rappresentato dalle gravidanze a rischio. La gravidanza a rischio è tale perché insorge in una patologia cronica preesistente, antecedente allo stato gravidico, oppure una patologia che insorge squisitamente nel corso della gravidanza. Le patologie croniche antecedenti allo stato gravidico sono rappresentate da patologie del sistema immunitario, le cosiddette malattie autoimmuni, oppure le pazienti affette da cardiopatie importanti o da nefropatie importanti. Queste mettono a repentaglio sia la vita del feto, ma anche la vita della madre. Pertanto in passato veniva sconsigliato a queste pazienti di affrontare una gravidanza. Evidentemente i progressi nell'ambito medico sono stati molteplici e importanti, per cui adesso il ginecologo non solo si sente in grado di consigliare la paziente a iniziare una gravidanza, ma di rasserenarla. Naturalmente il ginecologo non può da solo, ha bisogno di un team multidisciplinare, di un team di specialisti che vanno dal cardiologo al reumatologo, all'internista, all'endocrinologo, all'ematologo stesso. Abbiamo detto che queste patologie possono mettere a repentaglio la vita della madre. Anche le malattie che insorgono solo ed esclusivamente nel corso della gravidanza, tipo ad esempio la gestosi, ugualmente possono mettere a repentaglio la vita del feto, ma anche la vita materna. Esiste un'ampia gamma di patologie che possono intervenire nella gravidanza che decorre fisiologicamente e questa è rappresentata ad esempio dal diabete gestazionale, dalle infezioni che possono incorrere nel corso della gravidanza, dalle patologie della tiroide ed altre svariate malattie. Esiste però in alcune situazioni che per quanto apparentemente distanziate, distanti tra loro, presentano un comune denominatore. Queste patologie sono rappresentate dal distacco intempestivo di placenta, dal difetto di crescita fetale, dalla morte fetale in utero e tante altre che hanno come comune denominatore un rischio trombotico, cioè un rischio della coagulazione del sangue. Grazie all'intervento del nostro centro di emostasi e trombosi diretto dalla dottoressa Grandone, oggi possiamo tranquillamente garantire un buon esito, una buona evoluzione in pazienti affetti appunto da patologia trombofilica. Abbiamo ascoltato con molto interesse questa sintetica carrellata di problemi che possono caratterizzare la gravidanza e forse per cercare di rendere meno preoccupante l'atteggiamento di chi ci sta seguendo, prima di entrare proprio nel vivo dell'argomento, approfittando del fatto che la dottoressa Grandone comunque è specializzata in istituzionale e ginecologia, voglio chiedere ma questa è solo una carrellata? Non sono molto frequenti, sono rari i problemi, giusto? Quelli che abbiamo ascoltato. Sicuramente sì, bisogna comunque rassicurare tutte le donne che si apprestano ad affrontare una gravidanza, è utile il controllo da parte del ginecologo proprio per prevenire queste situazioni. E quindi adesso parliamo in maniera particolare di uno dei rischi, quello che il dottor Sean Emet ci ha delineato alla fine del suo intervento, cioè il rischio tromboembolico durante la gravidanza e i periodi immediatamente successivi alla gravidanza che vedremo anche fino a quando si estendono dal punto di vista temporale. Allora, quali sono le caratteristiche di questo rischio tromboembolico? Sì, la ipercoagulabilità, cioè una tendenza a coagulare maggiormente, è una caratteristica fisiologica della gravidanza che fa sì che una donna giovane, sicuramente in buone condizioni generali perché tale è la donna che affronta la gravidanza, abbia comunque un rischio teorico aumentato di circa 10 volte rispetto alla sua fascia di età al di fuori della gravidanza di eventi tromboembolici venosi che definiamo come la presenza di un trombo, quindi di un coagulo negli arti inferiori che però talvolta, per fortuna raramente, ma può anche localizzarsi a livello polmonare. Da un punto di vista del rischio, il rischio è aumentato, dicevo, di circa 10 volte, però da un punto di vista del rischio assoluto, che è quello che ci interessa maggiormente, dobbiamo sottolineare che anche se questo rischio, come dicevo, è aumentato e circa 1 su 1000, cioè vuol dire che una donna su 1000 gravide soffrirà di questa complicanza. Molto minore è però il rischio di eventi più gravi, cioè della embolia polmonare. Siamo infatti a 0,2-0,5 su 1000, quindi soltanto raramente vediamo le complicanze più gravi. Allora, detto in termini semplici, abbiamo capito che il rischio che può avere una donna in gravidanza è quello di una coagulazione, della formazione di un coagulo sanguigno, rischio che rispetto ad una donna che ha la stessa età e che non è in gravidanza è maggiore. Ora, questo coagulo, che cosa può andare a determinare? Qual è in concreto il rischio? Allora, può rimanere, come per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi accade, localizzato all'arto inferiore e premedire che prevalentemente nella donna gravida all'arto inferiore sinistro. Quindi il sintomo a sinistra per noi è un campanello d'allarme importante rispetto al sintomo alla gamba invece destra. E qual è il sintomo? Cioè la donna cosa avverte a sinistra? Allora, diciamo che la donna può avvertire perché ci sono anche dei casi in cui non ci sono sintomi ma quando i sintomi ci sono la donna avverte dolore, una sensazione di calore intenso, una incapacità a deambulare, camminare e anche l'incapacità proprio a appoggiare la gamba a terra. Il dolore è generalizzato a tutta la gamba o è localizzato al punto in cui il coagulo si è fermato? Ecco, di solito incomincia nel punto in cui si forma e poi però si può estendere. Quindi parte per esempio dal polpaccio o dalla caviglia per poi estendersi sulla coscia sinistra prevalentemente. Ecco, questo è il campanello d'allarme. Questo coagulo può diventare ancora più rischioso se dalla gamba comincia a muoversi? Esatto, l'embolia polmonare che è appunto dovuta o ad una partenza di questo coagulo dall'arto inferiore o qualche volta può anche essere dovuta alla formazione in prima battuta, più raramente, di questo coagulo a livello polmonare può appunto determinarsi ma come dicevo in un numero per fortuna molto basso di casi. Dicevamo che la donna in gravidanza ha maggiore rischio rispetto ad una donna normale di formazione di coaguli. Allora vogliamo parlare dei fattori di rischio specificando quelli che riguardano la donna che è in una situazione di gravidanza e quelli che sono i fattori di rischio che ordinariamente, perché se abbiamo detto che anche le altre donne non è che sono esenti, hanno meno rischio, così come credo che anche gli uomini abbiano una dose di rischio di formazione di coaguli che poi possono andare a determinare le stesse conseguenze. Assolutamente sì. Allora, lei giustamente poneva l'accento sul fatto che esistono fattori di rischio comuni. Primo fra tutti l'età. Tutti noi invecchiando acquisiamo un rischio sempre maggiore di complicanze di questo genere ed è chiaro che quindi l'età unita alla ipercoagulabilità della gravidanza già dà un fattore di rischio aggiuntivo. La ipomobilità o la immobilità assoluta di una donna può capitare per esempio che sia necessario che la signora resti per un periodo di tempo a letto, le venga prescritto un periodo di riposo perché per ragioni per esempio di ipercontrattività uterina, cioè quindi una minaccia d'aborto, può far consigliare dal ginecologo alla paziente una immobilità. E quello è un fattore di rischio aggiuntivo che però riguarda, come ben diceva, non solo le donne ma anche gli uomini. Questo è un altro fattore di rischio che riguarda entrambi i sessi e ancora gli interventi chirurgici. Tutti, soprattutto gli interventi chirurgici sull'addome e sugli arti inferiori, quindi quelli di tipo ortopedico, sono fattori di rischio per eventi tromboembolici. Naturalmente nella donna gravida l'evento più frequente, l'intervento chirurgico più frequente è il taglio cesareo. Quindi la gravida che venga sottoposta ad un taglio cesareo vede aumentare di circa quattro volte il proprio rischio tromboembolico. Quindi anche da questo punto di vista diciamo che il parto cesareo sarebbe preferibile evitarlo. E su questo ci sono delle linee guida che purtroppo non dappertutto vengono rispettate. Qual è la situazione del parto cesareo e quindi anche dell'aumento dei fattori di rischio che questo comporta? Sì, premesso che anche il Ministero della Salute italiano già nel 2007 faceva rilevare come il taglio cesareo aumenti in generale il numero di complicanze, non soltanto tromboemboliche ma per rimanere nel campo della coagulazione anche il numero di complicanze emorragiche, per esempio l'emorragia postpartum. Quindi in generale il cesareo aumenta tutte le complicanze. In Italia abbiamo assistito nel corso diciamo degli ultimi 20-30 anni ad un incremento in talune aree sproporzionato del numero dei tagli cesarei. E quindi è necessario sicuramente spiegare alle nostre pazienti che qualche volta chiedono loro stesse il taglio cesareo per magari semplicemente per paura della sofferenza, di un parto spontaneo. Abbiamo sentito c'è la parto analgesia che è sicuramente un ottimo rimedio per appunto affrontare con serenità un parto spontaneo. Quindi dicevo ridurre il numero dei tagli cesarei è assolutamente importante, non soltanto per ridurre tante altre complicanze ma anche appunto per ridurre le trombosi venose e le embolie polmonari. Peraltro voglio sottolineare che esistono numerosi studi della letteratura che fanno vedere come estendere a tappeto il taglio cesareo non migliora né la prognosi materna né la prognosi del bambino. Faccio una domanda cattiva, ma il parto cesareo conviene solo alla mamma o magari può essere la modalità più facile per taluni suoi colleghi per evitare rischi durante la fase del parto. In realtà è documentato che una delle ragioni dell'aumento così importante del numero dei tagli cesarei sia stato non solo per la verità in Italia ma anche in altre realtà europee sia effettivamente un eccesso di atteggiamento difensivistico. Quindi la preoccupazione di provvedimenti medico-legali per qualsiasi cosa che magari è indipendente dall'avere effettuato o no al tempo opportuno un taglio cesareo si verifichi. E quindi è chiaro che bisogna vegliare molto anche su questi atteggiamenti e queste condotte. Ricordo ai nostri telespettatori che se vogliono intervenire in diretta e porre le loro domande il numero a nostra disposizione, a loro disposizione, è lo 0882 41 83 80. Abbiamo parlato della complicanza più diciamo drammatica che si può verificare che è quello dell'embolia polmonare che può portare a quali conseguenze? L'embolia polmonare può anche essere letale. Di fatto noi siamo preoccupati proprio se i sintomi non vengono riconosciuti tempestivamente. Siamo preoccupati che la ostruzione delle arterie polmonari possa poi appunto determinare un evento fatale. Ci sono delle complicanze magari meno rare ma comunque possibili quando si forma un coagulo? Dunque abbiamo delle complicanze più rare come per esempio una trombosi in sede atipica. Quella degli arti inferiori è per noi che lavoriamo su questo una trombosi tipica ma le trombosi in sede atipiche si possono verificare in particolari circostanze. Per esempio la trombosi della vena giugolare quindi di un vaso del collo è più frequente nelle signore che sono arrivate alla gravidanza non attraverso un concepimento spontaneo ma attraverso un concepimento diciamo da prograzione assistita. Oppure trombosi invece dei seni venosi cerebrali quindi trombosi cerebrali ma non delle arterie che sono quelle più frequenti nel paziente anziano per esempio ma del distretto venoso ancora una volta di scarico appunto dei seni venosi cerebrali che sono più frequenti in generale nella donna. Cioè se prendiamo una popolazione di 100 persone che hanno manifestato questa complicanza oltre il 70% è donna e in questo gruppo di 70 donne c'è una fetta che era appunto in corso di gravidanza. Quindi sono complicanze più rare da un punto di vista del fenomeno tromboembolico però comunque da non sottovalutare. Sono anche queste ultime diciamo a rischio di mortalità? Sì, molto per fortuna anche questa soprattutto se insisto precocemente diagnosticate. Quindi la cefalea, una cefalea intensa che si manifesti all'improvviso in una donna che sta bene e poi disturbi della visione quindi problemi oculari nella signora in gravidanza non devono essere trascurati. La diapositiva che abbiamo visto poc'anzi che ci ha fatto capire il rischio appunto che il coagulo, che il trombo possa creare un ostacolo nei seni cerebrali però ci diceva anche qualcos'altro. C'è questo spaccato, questo disegno di una donna in gravidanza che ci fa capire che cosa dottoressa? Sì, che il rischio in realtà esiste dall'inizio della gravidanza per tutta la durata della gravidanza e anche nelle fasi immediatamente successive al parto, in genere nelle prime 4-6 settimane successive al parto che è il periodo che definiamo scolasticamente puerperio. Quindi è possibile anche che una donna non sappia ancora di essere in gravidanza e che quindi avverte il sintomo e non lo colleghi immediatamente alla gravidanza? Sì, ahimè è possibile anche quello. Per fortuna oggi le donne sono molto attente, spesso le gravidanze sono cercate, c'è parecchia attenzione però certamente è possibile. Le complicanze che problemi di coagulazione durante la gravidanza possano esserci non riguardano soltanto la mamma? No, riguardano infatti anche il bambino e sono le complicanze ostetiche in senso stretto che vanno dalla perdita fetale e dall'aborto, quindi in tutte anche qui le fasi della gravidanza, cioè dalle primissime fasi della gravidanza fino alle fasi più avanzate, quindi nella gravidanza a termine e poi possono riguardare anche situazioni di ritardato accrescimento in utero del bambino. Ecco, come colleghiamo questi due fenomeni, cioè la formazione di un trombo nei vasi della madre con l'aborto spontaneo o con problemi di accrescimento nel bambino? Sì, in realtà ci sono stati e ci sono ancora in corso numerosi studi, anche nei nostri laboratori di ricerca lavoriamo sulle placente appunto di signore che hanno avuto per esempio ritardi di crescita perché i meccanismi non sono chiarissimi, quello che però si è visto è che questi coaguli si possono formare anche nel circolo placentare, rendendo così più difficile lo scambio di nutrienti tra la mamma che ovviamente è il supporto, l'unico supporto che il bambino ha e il feto. Quindi attraverso questo alterato meccanismo di trasferimento dei nutrienti dalla mamma al feto vuoi perché ci sono dei coaguli che in qualche caso sono proprio evidenziabili all'esame istologico vuoi anche per fenomeni invece meno visibili da un punto di vista macroscopico. Ma perché fino a che dimensioni può arrivare un coagulo? Può essere macroscopicamente evidente, quindi può essere di centimetri. Addirittura, quindi diciamo che si può formare anche un coagulo veramente ostruttivo anche a livello di vasi abbastanza larghi? Sì, però diciamo che questo è quello che vediamo grossolanamente quando analizziamo le placente quello che in altri casi può accadere è che non vediamo dei coaguli macroscopici grossolani ma che osserviamo però sempre delle placente piccole rispetto quindi sono placente che se noi immaginiamo in genere la placenta di un bambino sano a termine pesa tra i 400 e i 500 grammi. Le placente di un bambino per esempio con basso peso alla nascita che ha sofferto in utero per questo alterato scambio feto placentare appunto può essere una placenta di 200-300 grammi, quindi placente molto piccole. Un trombo in placenta è sintomatico come quello negli arti inferiori o no? No, purtroppo no. Lì serve l'attentissimo e quindi il ginecologo ha un ruolo importantissimo serve un monitoraggio importante. I ginecologi oggi hanno le flussimetrie, le ecografie che vengono fatte in epoche sempre più precoci. Se c'è stata una complicanza della gravidanza precedente per esempio si può pensare a fare una serie di indagini che servono a studiare il flusso di sangue tra la mamma e il bambino, queste indagini si possono fare come dicevo già 20 settimane quindi siamo a metà gravidanza. Parlavamo dei fattori di rischio. L'aver avuto in precedenza nelle precedenti gravidanze degli aborti spontanei. Che tipo di campanello d'allarme rappresenta? Allora, intanto aver avuto un singolo aborto precoce in realtà direi che è una condizione molto comune nella popolazione generale. Ecco, quando parliamo di precoce in che termini di tempo ci riferiamo? Sì, se vogliamo parlare in mesi che non è mai appropriato per noi che lavoriamo in questo settore. Voi andate a settimane in pratica. Noi andiamo a settimane, però per spiegarci due mesi possiamo dire dieci settimane. Quindi tutto quello che succede prima della decima settimana. Quindi in caso di un solo aborto precedente precoce? Ecco, lì la coagulazione c'entra veramente molto poco perché sappiamo che invece c'entrano problemi genetici, cromosomici, che possono occorrere in qualunque donna. Non devono neanche essere, come dire, un campanello d'allarme particolare. Soprattutto la donna che affronta una gravidanza dopo anche qui l'età importante, dopo una certa età. Per esempio dopo i 35 anni di età è più facile che manifesti un aborto precoce dovuto ad un'anomalia cromosomica che noi definiamo casuale, che in realtà è legata al fatto che gli ovociti materni sono ovviamente inutero sin dalla nascita e quindi sono esposti al danno biologico, ambientale, eccetera. Però lì appunto, come dicevo, la coagulazione in genere ha poco spazio. Il problema è genetico. Quando invece incominciamo ad avere almeno due aborti con un esame genetico del feto normale oppure tre aborti, ecco, lì dobbiamo incominciare a pensare che ci possa essere un problema coagulativo. Parliamo sempre di aborti precoci o di aborti tardi? Precoci. Qui siamo ancora nell'ambito dell'aborto precoce perché è poco probabile che per tre volte di seguito ci sia stato un problema, a meno che non ci sia, vabbè, un'anomalia genetica nota a monte nei genitori, ma in genere questo è poco frequente. Se invece appunto il problema si è determinato per tre volte in genitori sani geneticamente, lì è poco probabile che tutte e tre le volte ci sia stato un discorso, un'anomalia cromosomica del bambino. E allora entrano in ballo i fattori di rischio coagulativi che sono, ci tengo a dirlo, fattori di suscettibilità. Cioè sono fattori che espongono ad un rischio ma che non vogliono dire sicuramente evento avverso, non vogliono dire sicuramente trombosi, non vogliono dire sicuramente avrò l'aborto. Significano appunto ho una probabilità in più rispetto ad un altro di avere quell'evento. E questi si acquisiscono, c'è la presenza di questa propensione alla formazione dei coaguli attraverso quale sistema? Allora sono in parte acquisiti e in parte congeniti. Dico, come si fa a capire che ci sono questi fattori di rischio, che tipo di esami si devono effettuare? Sì, è un banale prelevo di sangue che però viene poi analizzato in centri particolari che si occupano di questi aspetti. E nel momento in cui si determina la presenza di questo fattore di rischio, cosa si fa? Si corre subito ai ripari oppure si crea un monitoraggio un po' più intenso della situazione e si corre ai ripari solo quando il coagulo c'è? Cioè si fa una terapia preventiva o si fa una terapia quando il fenomeno si realizza? Ecco, è molto interessante questa domanda, è molto appropriata. Perché mentre nel soggetto uomo o donna che sia al di fuori della gravidanza aspettiamo l'evento per poi fare una terapia che è anche una prevenzione di un nuovo evento ma è di fatto una terapia, nella donna, ahimè, se parliamo della questione gravidanza la formazione di un coagulo o l'innescarsi di un ritardo di crescita è un processo che noi non riusciamo a far ritornare indietro. Quindi, o peggio ancora naturalmente la morte endoterina, quindi è una prevenzione. Quindi dobbiamo fare una profilassi utilizzando, sostanzialmente abbiamo un unico tipo di farmaci ad oggi che sono le eparine, in genere le eparine a basso peso molecolare perché sono farmaci che non passano al bambino e che quindi arrivano all'interfaccia mamma-placenta senza danneggiare il bambino. Altri farmaci che invece usiamo nella persona al di fuori della gravidanza gli anticoagulanti orali invece passano la barriera e possono essere dannosi. In caso di distacco di placenta che rischi si corrono? Allora, il distacco di placenta può essere primitivo e raro quello, molto raro, inferiore all'1% delle gravidanze complicate, però può dare una morte improvvisa di un bambino in utero o può essere secondario ad altre patologie, anche quelle legate a un'ipercoagulabilità, come per esempio il dottore Shannamene parlava nel filmato introduttivo, la gestosi. Allora, se ho una gestosi o ho un diabete gestazionale, posso avere secondariamente un distacco di placenta perché c'è comunque una compromissione dei vasi, vuoi su base aterosclerotica, vuoi su base a trombotica, comunque i vasi sono compromessi e c'ho questo problema. Ma posso averlo anche primitivamente, quindi un distacco di placenta appunto in una donna che fino a quel momento è stata bene, una gravidanza che decorsa in maniera assolutamente normale. Ripeto, il problema più temibile, la complicanza più temibile è la morte in utero del bambino. Il distacco di placenta si può rendere evidente qualora si verifichi un sanguinamento, ma ci può essere anche un distacco di placenta che può essere non notato, cioè se il problema vasale crea un coagulo e basta, è così? Sì, anche qui ci possono essere altri campanelli di allarme, quindi può esserci perdita di sangue oppure può non esserci per nulla, ma ci possono essere contrazioni, dolori quindi, e quindi naturalmente la necessità che questa signora si reti dal proprio ginecologo, anche se magari ci è andata da pochi giorni, perché per l'insorgere di questa nuova sintomatologia. Quindi diciamo che quando ci sono determinati fattori di rischio, ogni sintomo non va sottovalutato, ma per il bene proprio e del bambino andare una volta in più dal ginecologo non fa male. Abbiamo parlato del farmaco elettivo per prevenire i problemi di coagulazione in caso di gravidanza e che è costituito dall'eparina e abbiamo spiegato che questo è un farmaco anticoagulante, però laddove ci dovessero essere delle emorragie durante la gravidanza, qui si pone un bel problema, che facciamo? Facciamo in modo che l'emorragia continui, perché ovviamente l'anticoagulante impedisce la coagulazione, che è uno dei fattori di emostasi, quindi di blocco di un'emorragia. Che si fa in questi casi? Ecco, questa è una questione ancora in parte dibattuta. È chiaro che dipende molto dalla ragione per cui noi abbiamo originariamente consigliato la somministrazione del farmaco. Se la signora ha avuto dei precedenti aborti e ha una condizione di rischio appunto coagulativa, a cui facevamo accenno prima, io mi sento di consigliarle assolutamente l'uso di eparina. Il dosaggio però che io le darò sarà un dosaggio di profilassi, quindi un dosaggio ridotto, che non è sicuramente da un punto di vista quantitativo la quantità di farmaco che noi consigliamo a chi, per esempio, ha avuto anche in gravidanza, in acuto, un evento trombotico a un arto inferiore. In genere, bassi dosaggi non sono di per sé la causa del sanguinamento. E certamente se io ho una minaccia d'aborto, un distacco di placenta, immediatamente a ridosso della somministrazione dell'eparina, per un'ora, due ore, non di più, quello potrà far sì che io perda un po' più sangue, ma non sarà quella perdita di sangue a determinare eventualmente un evento abortivo. E con questo io dico come normalmente mi comporto rispetto a queste perdite, quando si dovessero verificare, in soggetti che però abbiano, in signore che però abbiano avuto in precedenza appunto dei problemi della gravidanza. Ripeto, non ci sono a sostegno grossissime prove in letteratura, ma io ritengo che, a maggior ragione per il fatto che queste signore poi vengono giustamente tenute a riposo dai ginecologi, quindi subentra l'immobilità, io mi sento di continuare a suggerire, magari si può provare a sospendere uno o due giorni per osservare che cosa accade, ma di non privare quella signora di una profilassi. Abbiamo parlato di fattori di rischio dovuti ad aborti precedenti, ad aborti spontanei precedenti alla gravidanza, ma ci siamo limitati a parlare di casi di aborti nelle prime fasi della gravidanza. Gli aborti tardivi costituiscono un fattore di rischio come gli aborti precoci, abbiamo detto però quando gli aborti precoci sono da due in poi? Ecco, la morte endoterina di un bambino, definita come in genere un evento che si verifica dopo la ventesima settimana, quindi siamo a metà, se poniamo la gravidanza, le settimane, la durata della gravidanza a 40 settimane, 20 settimane circa la metà, oppure secondo altre definizioni 24 settimane, poco importa, siamo comunque già di fronte a un bambino completamente formato, con organi già formati, studiabili, esplorabili all'ecografia, quindi siamo in grado di dire piuttosto facilmente se quello era un bambino con malformazioni o era un bambino normale, quindi dicevo, la presenza di una morte endoterina, di un feto normale, quello è sufficiente, un unico episodio perché noi pensiamo da subito a suggerire alla nostra signora uno screening coagulativo, quindi uno studio accurato della coagulazione, perché lì tutto quel problema legato alle anomalie cromosomiche viene meno. Questo per evitare che altre gravidanze possano concludersi nello stesso modo, ma anche per evitare rischi per la stessa donna? Sì, sicuramente per evitare che innanzitutto le successive gravidanze abbiano esiti analoghi e poi non possiamo escludere che questa signora in una successiva gravidanza appunto non possa anche manifestare un evento tromboimbolico. Ma una donna che ha perso il bambino in una fase avanzata della gravidanza rischia comunque come se avesse partorito, perché prima abbiamo detto che il rischio di trombosi si estende anche a qualche settimana dopo il parto. La donna che ha partorito o meglio, la donna che ha avuto un aborto tardivo può rischiare comunque nelle settimane successive quindi diciamo non deve neanche tardare più di tanto a fare i test della coagulazione? Allora, la ringrazio perché la domanda è molto pertinente e mi consente di correggere un po' quello che forse ho lasciato intendere non volendo e cioè sì, il rischio di trombosi venosa esiste anche per un aborto tardivo ma aggiungo anche per un aborto precoce cioè le modificazioni coagulative sono tali per cui comunque la signora che dovesse avere un aborto precoce uno tardivo ha comunque nel puerperio quindi nelle 4-6 settimane successive un rischio tromboembolico detto questo però i test della coagulazione in questo caso ahimè non ci aiutano nel senso che noi non siamo nelle condizioni di poter dare in tempi così rapidi come invece la situazione clinica richiederebbe delle risposte e allora quello che noi guardiamo in quella situazione particolare è la valutazione del rischio clinico di quella signora e quindi ritornano in ballo quei famosi fattori di rischio parlo dell'immediato quindi nell'immediato post aborto di quei fattori di rischio che abbiamo richiamato prima quindi l'età non abbiamo parlato del peso ma il peso è un fattore di rischio importante sia nell'uomo che nella donna quindi il peso della signora in quel momento eventuali altre patologie che il dottor Sean a me prima richiamava quindi una signora che già abbia un diabete o abbia una malattia cronica è già una signora che è più esposta a un rischio di trombosi venosa anche nel puerperio e quindi a questo punto lì ci mancherà sicuramente l'informazione relativamente ai test coagulativi ma quello che dobbiamo fortemente guardare sono invece i rischi clinici o comunque altri fattori di rischio più immediatamente valutabili e quindi in questo caso si usa l'anticoagulante l'eparina diciamo come prevenzione sì bene il tempo è davvero volato però siamo riusciti a completare il quadro che volevamo darvi di informazione generale per quanto riguarda i rischi che diciamo hanno come elemento scatenante problemi della coagulazione una coagulazione eccessiva del sangue durante la gravidanza ringraziamo la dottoressa Grandone per il tempo che ci ha dedicato e per la chiarezza espositiva ringraziamo anche voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi grazie a tutti Grazie a tutti